e ciao a tutti bentornati al mio canale sono Mario Azzico e oggi siamo qua in questo piccolino vlog per aggiornarvi sulla situazione praticamente io sono in quarantena da circa un mese e mezzo voi scrivetemi qui da quanto siete in quarantena e com'è la situazione nel vostro paese è solo qui solo per aggiornarvi che usciranno dei video non so se riuscirò a tenere il ritmo di un video settimana perché mi è un po' difficile essendo in quarantena non uscendo e non potendo fare altri video farò qualche video ancora di 24 ore ne ho uno in mente lo farò lo girerò lunedì intanto usciranno ancora ho girato un video del gratta e vince uscirà la prossima settimana oggi uscirà questo video qui per aggiornarvi come la situazione e in più speriamo che questa situazione finisca presto così ritorneremo alla normalità io tornerò a lavorare torneremo nei video da calcio tutto lo sport i miei amici infatti dico manco di video da calcio e manco di video da calcio ma se non si esce non si possono fare in caso ho provato a fare qualche video ma ho distrutto il lampadario perciò è meglio che non lo faccio è rimasto troppo lampadario stavo facendo un video in camera ma ho distrutto poi che dire comunque se volete le magliette sono uscite le nuove magliette queste magliette le felpe ma ormai penso che arrivando al caldo non mi interessi più però se vi interessa scrivetemi nei commenti io le spedisco io personalmente perché non ho un sito dove poterle iscrivere e che dire iscriviti al canale continuate a seguirmi che stiamo raggiungendo bei traguardi e tra poco un nuovo speciale perché stiamo arrivando a una bella città ti lasciamo così speriamo solo che finisca questa me me di situazione seguitemi su ttok che mi sono iscritto a ttok soffrendo un po di video per divertirmi e passare un po il tempo durante la giornata a un prossimo video ciao belli iscritto a me lo 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 di Grazie.